Serverlab al Forum dell'Innovazione Nord-Ovest Buongiorno, noi siamo presenti come Serverlab in qualità di partner Citrix in quanto l'architettura Citrix che consente notevoli vantaggi quali l'aumento della sicurezza, la riduzione dei costi, la gestione degli uffici decentralizzati e un aumento complessivo dell'efficienza mantenendo e in molti casi aumentando le prestazioni generali dei sistemi e delle reti.